Il Podenzana-Tresana non demorde e infatti, per quanto molto poco ormai rimanga al termine del campionato di prima divisione ligure femminile di Pallavolo, continua nel proprio inseguimento alla capolista colombiera Amelia infliggendo un sonoro 3-0 alla giovanissima Rainbow Spezia in quello che a Barbarasco era una sorta di mezzo derby. Per la cronaca comunque, salvo clamorosi ripescaggi, in Serie D salirà soltanto la prima. Oggi abbiamo giocato bene, le ragazze sono comportamenti sempre sull'attenti, stanno continuando bene a giocare, si impegnano e noi ce la metteremo tutto fino alla fine, finché la matematica non ci dirà che non riusciamo a prendere il colombiera che sinceramente sta facendo un campionato formidabile e noi però le nostre ragazze sono impegnate al massimo e fino alla fine non moleremo. Oggi è stata una bella partita con una squadra giovane di là del Rainbow che ci ha messo in difficoltà, che sono molto brave. Noi speriamo di almeno fino alla fine ce la dobbiamo mettere tutta per riuscire a ritornare su a vincere il campionato, se ce la facciamo.